La rivoluzione civile di Ingroia, un cantiere aperto ai cittadini, anche ai partiti, anche se i leader di partito hanno fatto un passo indietro proprio per sostenere la rivoluzione civile di Ingroia. La vera rivoluzione è questa, la rivoluzione civile, la rivoluzione dei cittadini che si impegnano in politica e si mettono in prima fila. La rivoluzione della politica buona e dei partiti che fanno il passo indietro per favorire il passo avanti della società civile. In una sintesi che porterà alla rivoluzione del nostro Paese per rendere il sistema più giusto, il sistema economico più equo, più diritti e meno tasse per i più poveri, più tasse per i più ricchi.